Signori, bentornati in un nuovo video flash. La campagna fondi del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo ha raggiunto quota un milione di dollari di capitale raccolto. In queste ultime ore di crowdfunding molti forgiatori hanno contribuito garantendosi la loro parte in questa incredibile corsa verso il rilancio di Keyforge, rispondendo presenti alla chiamata che vedrà il ritorno delle ambre pronte per essere convertite in chiavi sui tavoli da gioco. Niente male per un gioco definito da diversi morto. Ed ora alla casa madre non resterà altro da fare che lavorare duramente per migliorare sempre di più l'esperienza ludica di ogni singolo appassionato, veterano o non, che tornerà o inizierà a calcare attivamente le immense lande del crogiolo. E da come abbiamo visto dal video pubblicato direttamente dalla Ghost Galaxy, il macchinario e l'algoritmo hanno iniziato a stampare i primi unici e sono operativi al 75-80%, in rapida crescita. Ci sarà da aspettarsi un ripristino totale dell'intero sistema a breve, dato che ora come ora i fondi di sicuro non mancheranno per far tornare Keyforge più forte e sorprendente di prima. Se ancora non lo avete fatto e volete partecipare alla raccolta, affrettatevi, mancano poche ore. Come sempre in descrizione vi lascerò il link dove potrete scegliere il vostro pacchetto ideale. E voi avete già partecipato attivamente al rilancio di Keyforge? Come sempre fatemelo sapere nei commenti, inoltre iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo.